Ciao a tutti da Al Saludatore, ecco qui mi trovo con Giulia Giambietti, ecco qui un saluto speciale a chi lo vuoi fare? Al nostro piotta e a tutto il film del piotta, che grandissimo che c'ho, grande Tommaso, grande piotta, spacca, spacca sempre e ecco qui la manina del Saludatore per salutare, salutiamo, direttamente dal primo maggio backstage, ciao!